la marcia su roma il 28 ottobre 1922 è uno degli avvenimenti che segnano la storia d'italia ed europa un avvenimento che avrebbe presto suscitato ammirazione ed emulazione prima in europa come avrebbe ammesso lo stesso hitler e poi in tutto il mondo un avvenimento quindi fondamentale su cui però a un secolo di distanza restano aperte diverse questioni ne parliamo con marco mondini storico contemporaneista e specializzato in storia della guerra e autore di roma 1922 il fascismo e la guerra mai finita appena pubblicato dal mondino buongiorno buongiorno ecco io direi di partire un po dalle basi qual è l'importanza effettiva e il ruolo del 28 ottobre nella storia d'italia ed europa beh per la storia d'italia è presto detto il 28 ottobre 1922 è l'evento più nefasto nella storia nazionale se pensiamo che da quell'evento discende non solo la dittatura la soppressione delle libertà civili ma discende anche la seconda guerra mondiale la distruzione del paese i bombardamenti e l'impossibilità per sempre per l'italia di essere una grande potenza una prospettiva che nel 1919 a grande guerra finita era reale il fascismo andò al potere mussolini andò al potere con il proposito il miraggio la promessa di fare dell'italia una grande potenza imperiale quello era il destino quella era la missione ma la verità è che il fascismo trasformò l'italia in una potenza paria la distrusse la devastò la fece occupare da eserciti stranieri cancellò tutto ciò che di buono aveva creato lo stato liberale per quello che riguarda invece la storia d'europa beh l'eredità della marcia su roma è stata per molto tempo incompresa un po' anche colpa nostra è degli storici italiani gli storici italiani dai testimoni contemporanei fino ai grandi storici di oggi voglio dire noi abbiamo avuto grandi narratori grandi analisti grandi interpreti della marcia su roma penso a emilio gentile il più grande storico del fascismo vivente ha dedicato un libro bellissimo alla marcia su roma ma ecco la storiografia di lingua italiana ha molto spesso indusato troppo sul carattere italo italiano della marcia su roma come se fosse solo una pagina di storia nazionale tutt'altro prima di tutto la marcia su roma è un frutto della grande guerra senza la grande guerra senza la mobilizzazione della cultura di guerra la marcia su roma è impossibile il fascismo non si può pensare l'idea che esista un movimento con delle formazioni paramilitari che sfida lo stato legittimo solo nell'europa post 1918 questo è possibile e poi la marcia su roma crea emuli crea imitazione perché perché nell'europa devastata dal primo conflitto mondiale nell'europa dei paesi sconfitti penso soprattutto la germania qualcuno dice beh se ce l'hanno fatta in italia lo facciamo anche noi e c'è un signore che si chiama adolf hitler che nel 1923 a monaco prova a ripetere la stessa impresa e per fortuna dei tedeschi dell'epoca gli va male finisce in carcere poco carcere per la verità l'effetto di emulazione della marcia su roma è la testimonianza più efficace di come l'avvento al potere del fascismo in realtà sia un fenomeno che si può comprendere solo se noi partiamo dal fenomeno più europeo della storia del novecento che è la grande guerra e inseriamo la nascita la genesi la salita al potere del movimento e poi del partito fascista all'interno della storia culturale del primo conflitto mondiale ecco il suo studio si sofferma a lungo sul contesto ai precedenti della marcia su roma ma com'è che un partito che solo pochi mesi prima aveva poche migliaia di iscritti riesce a conquistare e a mantenere il potere beh per risalire alle radici per comprendere la genesi della salita al potere del fascismo in realtà bisogna cominciare almeno dal 1914 perché nel 1914 la scelta se entrare o non entrare in guerra per l'italia diventa in realtà una scelta capitale ma soprattutto diventa quello che con la retorica politica di oggi con il linguaggio di oggi chiameremo una scelta molto divisiva parecchio divisiva nel senso che nel 1914 neutralisti interventisti in italia si delegittimano a vicenda si considerano non solo degli avversari politici ma dei nemici da annientare e si può parlare tranquillamente di una guerra civile strisciante nel 1914 che a un certo punto esplode per decidere se entrare o non entrare in guerra ci si spara addosso nell'italia dell'anno della cosiddetta neutralità tanto che si può tranquillamente dire che il primo conflitto mondiale anche per gli italiani comincia nel 1914 ma più generalmente come negli altri paesi europei il primo conflitto mondiale vuol dire fondamentalmente mobilitazione di una cultura dell'odio radicale qualsiasi avversario che si opponga il mio programma qualsiasi nemico che sia contrario alla mia crociata la mia missione per redimere il mio paese per salvare il mio paese per farne una grande potenza deve essere distrutto non sconfitto distrutto noi non possiamo capire la mobilitazione ideologica estremistica del 1919 se non capiamo che questo è un portato della cultura mobilitata già nel 1914 di una cultura che fa i conti con l'isteria delle masse con il fatto che il paese è entrato in un'epoca di mobilitazione mediatica l'italia è veramente entrata nel mercato dei mass media è anche entrata nel mercato delle fake news per certi versi è un'italia molto più moderna perché il fascismo è il prodotto di un'età più moderna non è più l'età liberale classica l'età delle masse politiche delle collettività di un corpo elettorale ignorante rozzo incapace di valutare criticamente la realtà e che si fa ammaliare e pennotizzare dai miti cominciamo da questo queste sono le radici della salita al potere del fascismo dopodiché certo il movimento fascista nato nel 1919 peraltro in una galassia che è strapiena di movimenti di reducisti è un movimento all'inizio insignificante irrilevante prende poche migliaia di voti alle elezioni del 1919 Mussolini non viene nemmeno eletto Mussolini stesso penserà a un certo punto di abbandonarlo questo movimento per darsi al suo unico vero grande amore che è il giornalismo non dimentichiamo che Mussolini è un brillante giornalista un grande retore un grande retore da piazza qualcuno che ha capito il linguaggio delle masse nella nuova politica moderna molto prima e molto di più dei suoi avversari politici e quindi la domanda diventa un po paradossale com'è possibile che questo piccolo movimento che nel 1919 sembrava veramente a rischio estinzione due o tre anni dopo sia un protagonista così importante della vita politica e beh per capirlo dobbiamo chiamare in causa altri attori convergenti primo la paura l'italia del 1919 è un'italia che è dominata dalla paura anzi dalle paure quali paure intanto la paura della rivoluzione bolshevica che è un mito in italia non c'è mai stata la possibilità che un movimento violento che si appellava ai principi ideologici della rivoluzione bolshevica potesse veramente andare al potere nel senso esisteva un partito socialista che era dominato dagli estremismi dominato dalla corrente massimalista questi massimalisti si richiamavano alla bellezza della rivoluzione bolshevica un giorno sì e uno pure e si appellavano alla bellezza della violenza alla rivoluzione violenta rovesceremo e annienteremo le classi dirigenti lo dicevano veramente tutti i giorni due volte la domenica dopodiché esistevano anche delle formazioni paramilitari che si richiamavano un pochino a lontana al partito socialista che non le controllava esistevano le guardie rosse che ogni tanto si facevano vive in toscana durante i conflitti agrari in pianura padana occupavano qualche fabbrica due campi a volte occupavano tanta terra spaventavano i proprietari tutto questo vuol dire che l'italia era in una situazione rivoluzionaria no no il partito socialista declamava la rivoluzione ma non aveva veramente né i mezzi né la volontà di rovesciare con la violenza e le armi lo stato le guardie rosse esistevano ma non furono mai un esercito ebbero la clamorosa colpa storica di portare per primi la violenza nel contesto politico in maniera sistematica certo andrebbe detto anche loro si facevano la violenza che era già stata agita nel 1914 e contro la loro parte perché loro all'epoca erano neutralisti ma all'interno di questo perimetro di violenza e paura e destabilizzazione una colpa non da poco c'era la classe dirigente la classe dirigente dell'italia uscita dalla grande guerra una classe sorprendentemente inetta non in termini assoluti gli amministratori pubblici ministri i presidenti del consiglio che vanno al potere dopo il cosiddetto governo della vittoria di vittorio manuele orlando in realtà sono composti da personale onesto scrupoloso e capace pensiamo a nitti nitti è il primo presidente del consiglio diciamo della normalizzazione post bellica è un ottimo economista una persona molto seria qualcuno che è sinceramente intenzionato a fare solo il bene del paese ma non capisce non capisce ad esempio la psicologia delle masse con cui ha a che fare non capisce i bisogni culturali morali etici dei veterani dei reduci ad esempio non celebra la vittoria a differenza degli altri paesi questo è un clamoroso passo falso che nella psicologia di nitti si può capire ci sono molti buoni motivi che spiegano ragionevolmente logicamente perché nell'italia del 1919 si decise di non celebrare quella che era stata non solo la più grande vittoria della storia nazionale ma anche l'unica vittoria della storia nazionale il paese era profondamente squassato da divisioni che risalivano il 14 c'erano seri problemi di ordine pubblico c'erano seri problemi economici e poi non dobbiamo dimenticare che la guerra italiana ufficialmente non finisce nel giugno del 19 come tutto il resto d'europa con la sigla del della pace di versailles finisce in realtà mesi dopo con la sigla della pace con l'austria la repubblica austriaca quello che era rimasto dell'impero austro-ungarico è un po come se l'italia avesse perso il tempo e si fosse deciso non già di solennizzare la fine della guerra europea ma di aspettare che finisse ufficialmente la guerra italiana è però settembre un brutto mese per celebrare la fine di una guerra perché è lo stesso mese in cui si assiste alla messa in scena di fiume e quindi negli stessi giorni noi finiamo ufficialmente la guerra cominciata nel maggio del 1915 ma ma l'italia è attraversata dal primo tentativo di colpo di stato dal primo ammutinamento dell'esercito e si può anche capire perché un governo decida che in quel momento la celebrazione di una vittoria non sia esattamente la scelta più logica ma perché c'è un ma ma è comunque un enorme errore è un enorme errore soprattutto perché dà la possibilità a tutti gli avversari di nipi e sono tanti di accusarlo di essere il presidente che ha tradito la vittoria è vero assolutamente no il governo italiano fa di tutto con i mezzi a disposizione per venire incontro ai veterani per cercare di sistemarli per accelerare la smobilitazione insomma per riportare il paese alla normalità ma ma come spesso capita nella politica contemporanea gli slogan sono molto molto più importanti della realtà e nitti diventerà per tutti colui che ha tradito la vittoria e come nitti tutti i presidenti liberali dietro di lui ecco ricordiamo che lei ha anche dedicato alla proprio all'impresa di fiume nell'occasione del centenario un altro studio dove mette anche in risalto appunto questo colloghiamento profondo con quello che è successo dopo volevo però anche chiedere lei ci ha spiegato il contesto ma dal punto di vista degli attori quali furono i ruoli dell'esercito da una parte della corona e dei grandi poteri economici dall'altra ma l'esercito gioca una partita molto ambigua la giocata ai tempi di fiume e continua a giocarla per capire le ragioni di questa ambiguità bisogna rifarsi a ciò che succede durante il primo conflitto mondiale ancora una volta tutto ciò che succede tra 1919 e 22 non è altro che il frutto di ciò che succede tra 14 e 18 i generali durante il primo conflitto mondiale sono stati investiti di tantissimi poteri di una marea di poteri eccezionali e a un certo punto sono diventati non solo gli arbitri della guerra ma i padroni del paese normalmente noi diciamo che il paradigma più tipico di questa situazione è la figura di Luigi Cadorna che a un certo punto è veramente una sorta di proto dittatore dello stato liberale ma Luigi Cadorna non è l'unico a essere sinceramente convinto che sarebbe meglio che il paese venisse guidato dai generali e attenzione perché l'esercito italiano ha una tradizione profondamente in politica lealista fedele alla corona non si è mai interessato di politica in vita sua non è tradizione per i generali italiani fare politica in proprio siedono in parlamento ma si considerano dei servitori della corona ma la grande guerra cambia anche questo cambia l'atteggiamento dell'esercito che da profondo attore lealista diventa attore protagonista di una politica improprio noi militari sappiamo fare politica meglio dei politici civili anzi i politici civili perdono un solo tempo sono una casta attaccata alla poltrona che non sa fare altro che chiacchierare non sa vedere il destino del paese ancora una volta il destino di grande potenza e quindi tocca a noi salvare l'italia e per salvarla l'esercito decide di fare qualsiasi cosa in compreso decide di compiere delle scelte profondamente illegali al di fuori del perimetro della legalità ad esempio ad esempio armare o sostenere logisticamente formazioni paramilitari che promettono promettono di combattere contro la rivoluzione bolscevica promettono di appoggiare la restaurazione dell'ordine pubblico contro socialisti comunisti anarchici eccetera 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 tutti considerati traditori disfattisti nemici della patria da abbattere io esercito armo te formazione paramilitare illegale se tu mi prometti di essere al mio fianco è così che gli squadristi entrano nelle stanze dei bottoni entrano nell'orbita di quella rimobilitazione patriotica che gli consente di diventare un protagonista violento della scena pubblica nei giorni della marcia su roma la partita dell'esercito diventa ancora più ambigua da un lato l'esercito non diserta non si ribella non si schiererà mai con il movimento poi il partito nazionale fascista non formalmente dall'altro beh dall'altro la galassia dei generali più in vista continua a dire ripetere e non solo lo ripete all'orecchio del re lo dice anche pubblicamente che l'esercito avrebbe dei seri problemi nello sparare contro le camicie nere lo ripeterà anche nei giorni della marcia su roma poi intendiamoci se andiamo a vedere cosa succede praticamente sul campo noi scopriamo che il panorama è sorprendentemente variegato perché a roma il comando interinale della piazza non quello titolare ma quello effettivo sul campo è gestito da un signore generale pugliese che è invece un lealista di ferro e che con gli uomini a sua disposizione roma viene in realtà rimpolpata di uomini rinforzata nelle settimane che precedono la marcia su roma con gli uomini a sua disposizione pugliese sa benissimo che potrà fermare qualsiasi insurrezione e in effetti diciamo una volta per tutte le colonne di quei patacca degli squadristi non arrivano neanche a vederle le mura romane perché verranno fermati chilometri chilometri prima della cinta urbana semplicemente interrompendo la ferrovia e facendo qualche posto di blocco gli squadristi non avevano una chance di arrivare a ridosso delle mura romane e in quanto alla quinta colonna dei fascisti che avrebbe dovuto seminare il panico all'interno della città chissà com'è ma sono spariti a rintanarsi nelle cantine tuttavia tuttavia l'importante non è ciò che succede a roma o ciò che succede nelle piazze dove ci sono dei generali lealisti l'importante è che il capo dello stato che in definitiva è l'ago della bilancia in quel momento si fa impressionare dal fatto che molti generali nemmeno si fanno scippare il potere cedono il controllo della piazza direttamente agli squadristi questo è un classico caso soprattutto nel centro nord Italia non esiste nessun conflitto armato salvo sporadici casi generali e vertici dello squadrismo vanno in realtà d'amore d'accordo e in più alcuni consiglieri militari molto vicini al monarca gli mettono se non altro gli pongono se non altro il dubbio che effettivamente si rischierebbe una guerra civile se l'esercito sparasse contro gli squadristi guerra civile che andrebbe a vantaggio di chi ancora una volta dei rivoluzionari bolscevichi e comunisti anarchici e qui questo ci porta al ruolo giocato dal monarca qual è il ruolo di vittorio emanuele terzo beh io ho l'impressione che nelle grandi teorie complottiste che sono state costruite sulla marcia su roma il ruolo di vittorio emanuele terza sia molto esagerato per almeno due motivi primo non è che si comincia a parlare di un governo mussolini nei giorni della marcia su roma che il partito nazionale fascista debba essere in qualche modo inserito nell'orbita del governo per avere una chance di pacificare il paese e normalizzare la vita pubblica è qualcosa che si dice e si ripete costantemente quasi una pratica discorsiva diffusa almeno dall'estate precedente da quando il grande sciopero legalitario dell'estate del 22 ha ripiombato il paese nel timore della rivoluzione bolscevica e ha di nuovo trasformato gli squadristi che cominciavano a perdere un po di consenso nei paladini della patria e da quel momento in avanti una specie di piano inclinato che mussolini se non i fascisti debba arrivare al potere comincia a essere dato un po per scontato il problema è che mussolini non vuole arrivare al potere vuole avere in proprio il potere e questa è una partita molto delicata che lui gioca quindi vittorio emanuele terzo ha in qualche modo la sensazione che la crisi perché siamo nel pieno di una crisi politica stia precipitando in una direzione che è quella dell'affidamento del potere senza partner nelle mani di mussolini ma che non sia tutto sommato qualcosa di inusitato lui non ha la sensazione che ci sia una rivoluzione alle porte ha la sensazione che ci sia il pericolo la paura di uno scontro armato tra italiani che metterebbe in discussione la popolarità il consenso della dinastia che è l'unica cosa che lui non vuole toccare da un altro da un altro punto di vista vittorio emanuele terzo chiede delle alternative e da questo punto di vista è molto bello il parallelo che esiste per la sua situazione tra il 1922 e il 1917 anche dopo caporetto lui non faceva altro che chiedere agli uomini politici in base alla tradizione liberale per cui il re regna ma non governa ok datemi delle alternative io vi seguo come quando si diceva che bisognava silurare cadurna e lo si chiedeva prima di caporetto ok ditemi chi ci metto e io lo nomino però gli uomini politici titubavano facevano una scelta nel 1922 succede lo stesso datemi delle alternative ditemi cosa bisogna fare e io vi autorizzo a farlo l'unica cosa che non autorizza e lì è una sua scelta la sua scelta politica è la proclamazione dello stato d'assedio quella è sicuramente una sua scelta che sarebbe stato l'anticamera di uno scontro armato scontro armato che noi sappiamo si sarebbe risolto in pochissime ore con la fuga degli squadristi verso nord e probabilmente l'esilio di mussolini in svizzera era già pronto con le valigie ma all'epoca no all'epoca l'immagine dello squadrismo è quello di una formazione paramilitare vincente trionfante ed è un'immagine falsissima la cosiddetta armata delle camicia nere è grottesca non vi sarebbe uno scontro con dei boy scout figuriamoci con l'esercito regolare l'unica cosa che può fare è uccidere o malmenare degli avversari impreparati e disarmati o prendersela con dei lavoratori o dei contadini bruciando gli essedi ma se reagiscono già gli squadristi hanno dei problemi ma non è questo l'importante l'importante è l'immagine e vittorio emanuele terzo decide di non rischiare contro quella che sembra un'armata insurrezionale e poi in fondo gli squadristi non sono dei bravi figlioli amanti della patria sì un po violenti ma è quello che ripetono tutti i grandi giornali compreso il Corriere della Sera e arriviamo ai grandi poteri come si schierano ah anche qui il grande complotto dei poteri forti io ho sempre trovato crede no assolutamente io ho sempre trovato tutte queste teorie complottistiche finanziamenti del movimento e poi del partito nazionale fascista devo dire alquanto fragili intendiamoci non perché non ci fossero questi finanziamenti e i cosiddetti poteri forti la formula devo dire abbastanza ridicola tendenzialmente avevano la buona abitudine di sostenere con maggiori o meno con maggiore o minore impegno quasi tutti gli attori politici in gioco certo non tutti i partito socialista e quello comunista non lo finanziavano non dobbiamo neanche dimenticare che sostegno finanziario logistico operativo propagandistico al movimento e poi al partito nazionale fascista era stato dato negli anni precedenti al 1922 dalla stragrande maggioranza dei grandi quotidiani nazionali e che vuol dire anche della stragrande maggioranza dei finanziatori che dietro i quotidiani nazionali agivano per non parlare della simpatia enorme diffusa tra gli elettori e i rappresentanti dei cosiddetti partiti d'ordine ma il problema non è questo come non lo è ad esempio il grande complotto della massoneria una delle pagine più divertenti della salita al potere del fascismo sì perché si accusa la massoneria di essere stato il grimaldello attraverso cui il fascismo è andato al potere si prima di tutto di massonerie in italia se ne sono due almeno intanto e si odiano a vicenda e non è che tra 1919 e 22 si odiassero di meno il loro atteggiamento nei confronti del movimento e poi del partito nazionale fascista era tutto sommato molto coerente ambedue le obbedienze massoniche erano fondamentalmente delle comunità delle collettività patriottiche e il movimento fascista si iscriveva nella tradizione dei sostenitori e difensori della patria quindi nessun dubbio che lo guardassero con simpatia e che abbiano anche offerto il loro aiuto quanto determinante è stato questo aiuto molto poco la verità è che tutta la salita al potere del fascismo e il suo atto culminante la marcia su roma in realtà sono appese a un filo e quel filo è e mi spiace dirlo perché a volte si pensa che in effetti la storia delle rappresentazioni dei simboli delle culture sia più importante degli eventi reali sul campo in questo caso non lo è la marcia su roma come evento culminante di una crisi che va verso il conferimento del potere a mussolini è anche in questo caso soprattutto un atto militare politico e se in quei due giorni effettivamente si fosse arrivati allo scontro armato noi non staremo qui nemmeno a ricordare il centenario della marcia perché perché quella salita al potere non ci sarebbe mai stata e nessun complotto dei cosiddetti poteri forti può cambiare questa realtà lei ha parlato di termini che si sentono anche oggi come fake news propaganda io aggiungerei casta anche antipolitica ecco mentre ci prepariamo a ricordare questo anniversario in italia in corso una campagna elettorale e tre principali candidati a guidare il paese ce n'è anche uno che si riconosce in una tradizione politica storicamente accusata di ambiguità nei confronti del fascismo secondo lei sono possibili dei paralleli tra oggi e allora oppure questo è un discorso da chiudere in qualche modo ma oddio come storico di mestiere credo sempre che le analogie troppo stringenti siano una bestia nera e siano sempre da evitare ma soprattutto devo dire in questo specifico caso io amo ricordare che l'incubatore del movimento e poi del partito fascista è la guerra e tutti coloro che si proclamavano nel 1922 militanti sostenitori del movimento del partito fascista e coloro che indossavano la camicia nera coloro che marciarono verso roma convinti sinceramente di essere gli aralli di una rivoluzione vedevano nella mobilitazione per la guerra nel fatto di essere dei cittadini uniforme dei soldati di fatto l'alfa e l'omega della loro missione il loro referente morale per definizione quello che volevano fare loro era dare l'italia in mano alla vera nazione e la vera nazione era la nazione dei soldati dei cittadini che avevano imbracciato il fucile avevano combattuto per la patria ora possiamo dire tante cose sui militanti e gli elettori dei partiti di destra oggi in italia ma è come dire la stragrande maggioranza di loro non solo non ha mai vestito un uniforme ma non saprebbe da che parte girare un fucile come infilare un colpo in canna cioè la maggior parte dei militanti la stragrande parte e degli elettori dei cosiddetti partiti di destra oggi in italia fa parte di quella che un veterano del 1918 avrebbe definito la grande galassia degli imboscati e beh questa è una differenza rilevante è una differenza che toglie già dal piatto della bilancia dal perimetro della discussione ad esempio il parallelo più forte cioè il principio morale che animava in accrociata devastante e nefasta gli squadristi i militanti del partito nazionale fascista ricordiamo che sul tema della marcia su roma si terrà a padova un convegno internazionale il 29 e il 30 settembre ricordiamo anche il libro di marco mondini roma 1922 il fascismo e la guerra mai finita appena uscito per i tipi del mulino ringraziamo marco mondini per essere stato con noi e vi diamo appuntamento con i prossimi contenuti del bolai ringrazio 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 Grazie.